Sera anche questa volta, anche questa sera nel telegiornale tante le notizie, due però forse quelle di primo piano, le più importanti e lo diciamo subito sono abbastanza preoccupanti. La prima riguarda la diffusione in diversi paesi europei di uova contaminate, tra questi paesi c'è anche l'Italia, ma precisa il Ministero della Salute, le uova nel nostro paese non sono state messe in commercio. Uova che sono state distribuite da un'azienda francese, provengono da allevamenti in Olanda e in Belgio, sono tossiche perché sulle galline è stato usato un antipulci, si chiama Fipronil, non autorizzato e tossico e quindi le uova sono state contaminate. Può provocare forti irritazioni, questo è quello che dicono gli esperti, ripetiamo, da quello che si sa per ora, queste uova non sono state commercializzate in Italia. L'altra notizia, l'altra notizia molto preoccupante e quasi verrebbe da dire che insomma ve lo potete aspettare, ce lo potevamo aspettare. La crisi Nord Corea-Stati Uniti. Cosa è successo? Che nel pomeriggio poco più di un'ora fa si è venuto a sapere che anche il Giappone ha preparato dei missili per intercettare un eventuale attacco della Corea. Segnali davvero che portano solo in una direzione che è quella che tutti si augurano che non sia, ma a conferma di uno stato generale di allerta si è saputo che anche le basi aeree della Russia nell'area sono in allerta massima. Questo è il quadro mentre continuano le provocazioni da una parte e dall'altra con dichiarazioni a sfidare l'avversario e però si stanno anche elevando voci di leader mondiali che invitano ad abbassare i toni. Le sentiremo dalla stessa Russia a la cancelliera Merkel, Angela Merkel, che si è rivolta appunto ai leader della Corea del Nord e degli Stati Uniti a fermare questo crescendo. Dopodiché dagli Stati Uniti arriva anche la notizia che lì il crescendo di Trump viene interpretato anche come tentativo di sviare l'attenzione sul Russiagate. Ma questa è tutta un'altra storia. Chi crede che la crisi sia molto rischiosa sono i mercati mondiali perché qualche giorno, i dati ve li abbiamo raccontati nelle edizioni, sempre segno negativo e non è solo una questione italiana. Tutte le borse mondiali negli ultimi giorni stanno chiudendo in negativo, anche oggi ve lo anticipiamo e questo è chiaramente collegato anche perché c'è un nesso tra quelle parole di Donald Trump, quella minaccia rivolta alla Corea che ha poi fatto fare un ulteriore salto al crescendo nello scontro tra i due paesi. L'economia, oggi abbiamo i dati dell'inflazione, scende ma non scendono i pezzi, insomma siamo sempre un po' lì in mezzo al guado, si migliora la direzione, è quella giusta ma il cammino è quello lungo. Emergenza migranti, allora abbiamo detto della Merkel all'appello rivolto a Corea e Stati Uniti, ecco la Merkel oggi ha anche espresso esplicito apprezzamento rispetto all'iniziativa, alla gestione italiana con le ultime misure. Insomma l'Italia sta facendo bene e questo si è visto anche, lo abbiamo da una conferma dai numeri, diminuiscono gli sbarchi nel nostro paese, il problema non è risolto perché i dati ci dicono che i viaggi della speranza continuano e ora la rotta è diretta verso la Spagna. E ancora nel telegiornale i danni provocati dal maltempo, in particolare nel nord-est, al nord ma in particolare nel nord-est e ancora a Roma la questione Atac, l'azienda del trasporto della capitale. I radicali hanno raccolto le firme, le hanno depositate in Campidoglio, referendum per la privatizzazione e poi oggi ci sono stati i funerali di quei due contadini colpevoli di aver assistito a quell'agguato che ha portato alla morte di un boss, presunto boss in provincia di Foggia. A proposito il questore ha vietato i funerali invece pubblici proprio del boss ucciso. E allora, ma tante altre ancora le notizie, cominciamo il telegiornale e iniziamo tra 30 secondi con i titoli. Venti di guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord dopo le minacce di Pyongyang, vi spazzeremo dalla faccia della terra e la replica statunitense siamo pronti a colpire. Si fa strada la via diplomatica con Cina, Russia e Germania che provano a mediare. Le tensioni spaventano le borse mondiali, tutte in calo mentre salgono le quotazioni dell'oro bene rifugio. Piena sintonia tra il premier Gentiloni e la cancelliera Merkel sulla strategia con la Libia per la gestione migranti. Anche l'AONG SOS Mediterranea ha sottoscritto il codice di comportamento voluto dal ministro Minniti e la quinta a farlo. I flussi tra Africa ed Europa si spostano verso la Spagna negli ultimi giorni. Gli arrivi lì sono quadruplicati. E si allarga l'inchiesta sulla Consip con tre nuovi indagati. Tra loro ci sono anche l'amministratore delegato di Grandi Stazioni Silvio Gizzi e Domenico Casalino, l'ex amministratore delegato della Centrale Unica per gli Acquisti. Sotto la lente degli investigatori un incontro tra l'imprenditore toscano Carlo Russo, già indagato per traffico di influenze e proprio Gizzi. La strage mafiosa di San Marco in Lamis nel Gargano. Il questione di Foggia ha vietato i funerali pubblici per il boss Luciano Romito, ucciso insieme al cognato. Grande commozione nel pomeriggio e chiesa gremita alle seguie dei due contadini, giustiziati a colpi di Kalashnikov per errore. L'ipotesi degli investigatori è lo scambio di persone. Le uova contaminate con l'insetticida Fipronil. C'è anche l'Italia tra i 15 paesi in cui sono state distribuite ma i prodotti non sono stati mai messi in commercio. Il Ministro della Salute, il Ministero, rassicura l'unica partita proveniente dalla Francia era già stata sequestrata. I paesi più colpiti sono Olanda, Francia, Germania e Belgio. Buonasera, dunque nella crisi tra Nord Corea e Stati Uniti intervengono i leader mondiali che chiedono di fermare il crescendo, di ritornare a un dialogo che riconosca le ragioni degli altri, delle parti. Un invito a moderare i toni, ci sta tra questi paesi la Cina, l'alleato storico di Pyongyang, ma anche sono intervenuti la Russia, la Germania con la cancelliera Angela Merkel. Tentativi che in realtà per ora, da poche ore, ma per ora non sembrano aver dato grandi frutti, almeno a sentire quello che dicono ancora i protagonisti, Trump e Kim. Saremo noi a cancellare dalla faccia della terra senza alcuna pietà i provocatori che fanno tentativi disperati di soffocare lo Stato socialista. L'America soffrirà una vergognosa sconfitta e un destino tragico e definitivo se persisteranno nelle loro avventure militari, sanzioni e pressioni. Il regime di Pyongyang affida all'agenzia di stampa nordcoreana la risposta alle parole di Donald Trump che in un tweet aveva scritto che le misure militari sono state allestite, pronte a colpire, in caso la Corea del Nord agisse incautamente. Speriamo che Kim Jong-un trovi un'altra strada, auspica il presidente degli Stati Uniti. Ma i segnali di un'escalation al momento ci sono tutti, anche se non mancano gli appelli alla moderazione. L'alleato forte di Pyongyang e la Cina nelle ultime ore ha invitato tutte le parti a fare di più per allentare le tensioni, evitando di prendere iniziative sulla dimostrazione di forza. Un appello ancora una volta inascoltato, perché i toni, anziché diminuire, crescono preoccupando sempre di più la comunità internazionale. La Russia, che ha rafforzato i sistemi antiaerei dislocati nell'area orientale del paese, ammette che i rischi di un confronto militare tra USA e Corea del Nord sono molto alti. Per il ministro degli esteri la Prova dovrebbero essere gli Stati Uniti, essendo la potenza più forte, a fare un passo indietro ed evitare che le tensioni aumentino ulteriormente. Non c'è una soluzione militare nella crisi, sottolinea la cancelliera tedesca Angela Merkel, e la retorica dell'escalation è la risposta sbagliata. Anche il Giappone, che sta schierando batterie di missili intercettori nella parte occidentale del paese, non nasconde la sua forte preoccupazione. Vorrei sapere quali sono le vere intenzioni di tutti, si chiede questo abitante dell'isola di Guam, minacciata dai possibili lanci di missili nordcoreani. C'è molta retorica, ma non credo che sia quella statunitense piuttosto quella nordcoreana. La propaganda del dittatore Kim Jong-un intanto continua a fare proseliti. Anche se gli Stati Uniti pongono sanzioni su di noi, non ci faremo intimidire. Intimiditi, preoccupati e forse anche qualcosa di più sono invece i mercati finanziari, che poi sono un po' anche il segnale per capire se quello che sta succedendo è davvero così grave. E allora, a vedere i segni, meno degli ultimi giorni i mercati lo interpretano come davvero un crescendo preoccupante. Come dicevamo, in particolare i mercati hanno iniziato a segnare in negativo, particolarmente, andando particolarmente male, da quella frase «Chi ci minaccia sarà accolto da fuoco e furia». Quella frase pronunciata da Donald Trump. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Viene subito in mente per associazione quel famoso segnale lanciato nel film Il Gladiatore, una delle minacce cult del cinema moderno. Volendo più contemporanea e nello stile, uno pensa anche alla rapidità e alla furia con cui si immaginano sfide su strade violente, spettacolari, ma molto violente. Trump è uno che parla per slogan, frasi fatte, immagini semplici, d'impatto e molto hollywoodiano. Fa sicuramente spettacolo, sperando che il Pacifico non si trasformi davvero in una strada violenta. Quel suo fuoco e furia pronunciato qualche giorno fa contro i nordcoreani a parere di chi per mestiere osserva come si muovono i soldi e li segue. È stata un po' la svolta, brutta. È stato come l'inizio di un film, almeno sui mercati finanziari. Si calcola che sulla minaccia dell'escalation nucleare i mercati mondiali intresedute abbiano perso mille miliardi di dollari, il valore di oltre mezzo pillo italiano, cosa seria, o se si preferisce la metafora balneare calcistica come una squadra composta da 1800 Neymar. I mercati vicini nel raggio della gittata nordcoreana intresedute hanno perso oltre tre punti. Tokyo ha ostentato maggior sicurezza fermandosi a un punto e mezzo. Potenza più che della risposta delle autorità di Tokyo, della forza internazionale di un mercato e di una valuta, lo yen, considerata rifugio. Un po' paradossale, vista la vicinanza ai venti di guerra e di follia, ma i manager del denaro seguono strade tutte loro. Il rifugio per eccellenza allora ha guadagnato circa 30 dollari l'oncia, poco meno del 3% intresedute, il massimo da nove settimane, più o meno la stessa percentuale che ha ceduto invece Milano con i fuzzi Mib. Si dice sia stata la peggiore settimana di contrattazione nelle medie dei panieri europei e americani da novembre, anche se in verità tuoni, fulmini e saette a Wall Street non hanno poi fatto così paura. Il Dow Jones era fresco di record, serviva una pausa, come dicono gli esperti, fisiologica. Non per caso dopo quel fuoco e furia che è già un cult, il Dow Jones segnava la prima frenata dopo dieci sedute e non che la Nord Corea fosse dormiente. Anzi, è che trattandosi di America, trattandosi di Trump, la retorica militare di cui parla oggi la Merkel non è solo retorica, è business ed è questo da sempre il vero cult di Wall Street. Segna un più l'Italia per la gestione dei flussi dei migranti, almeno questa è la valutazione della cancelliera tedesca Angela Merkel che ha espresso apprezzamento direttamente al Premier Gentiloni proprio per le scelte, le ultime scelte del governo italiano. Dai numeri effettivamente sembrerebbe, sembra che il codice di comportamento per le organizzazioni non governative, quello voluto dal Ministro dell'Interno Marco Minniti, sta funzionando. I numeri dicono che gli sbarchi nel nostro Paese, nell'ultimissimo periodo, stanno diminuendo. Ma stanno cambiando rotta perché il problema non è risolto, i migranti vanno in Spagna. Alla fine una mediazione è stata trovata e anche la ONG indipendente italo-francese tedesca SOS Mediterranea ha sottoscritto il codice di comportamento voluto dal Ministro Minniti. Nel giorno in cui, dopo quello di ieri della CEI, il governo italiano tiene anche l'appoggio della Germania per un approccio definito dalla Merkel in un colloquio con Gentiloni condiviso sulla questione del contrasto ai trafficanti e la stabilizzazione della Libia. SOS Mediterranea ottiene qualche limatura al codice che, se da una parte non modifica la sostanza delle regole del Biminale per poter effettuare operazioni di salvataggio in mare, dall'altra non calpesta il principio di neutralità che contraddistingue il lavoro delle ONG. A cominciare dalle armi a bordo, che non ci saranno, chiarisce SOS Mediterranea. Assieme a quello dei trasbordi, questo è uno dei punti più delicati. La ONG non si impegna a ricevere uomini armati a bordo della sua nave, fatto salvo il caso di mandato rilasciato nell'ambito del diritto nazionale o internazionale. Sale così a 5 il numero delle organizzazioni non governative che hanno sottoscritto le nuove regole per poter continuare a soccorrere i migranti nel Mediterraneo, compresa la tedesca CEI, protagonista oggi di un piccolo giallo. Secondo quanto riferito dal portavoce della stessa ONG, è stato chiesto dalla missione europea Sofia di soccorrere la nave antimigranti Sistar impegnata ad impedire i salvataggi in mare. Sistar aveva inviato una richiesta di aiuto per un'avaria al motore. In navigazione nelle acque tra la Tunisia e la Libia, la CEI è stata poi fermata dai membri di Defend Europe, l'organizzazione di estrema destra che ha organizzato le azioni contro l'immigrazione irregolare che ha rifiutato ogni aiuto. Dalla Libia, intanto, dove ci sarebbero 200.000 persone pronte a partire per l'Europa, si attendono dettagli sulla decisione di estendere a 97 miglia nautiche il limite di navigazione proprio per le ONG, con i flussi che tra l'Africa e l'Europa sembrano spostarsi sulla rotta verso la Spagna. Se infatti a luglio in generale gli sbarchi nel Mediterraneo si sono dimezzati rispetto allo scorso anno, la rotta spagnola sembra essere la nuova frontiera per i migranti. Dall'inizio del 2017 fino al 6 agosto scorso l'arrivo via mare si è quadruplicato in Spagna superando quota 8.000. Non solo questa mattina, all'alba c'è stato un nuovo assalto a Ceuta quando in 250 hanno cercato di entrare nell'enclave spagnola, tentativo però respinto dalla Guardia Civile. Scende l'inflazione non abbastanza ai prezzi e per quanto riguarda la nostra economia quindi rimaniamo sempre lì, insomma il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto e dipende un po' dal punto di vista. Il succo è che ancora non siamo fuori dal tunnel e bisogna camminare ancora un po'. I numeri sono quelli che confermano le stime preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica numeri leggermente stonati ma che comunque hanno un vago sapore di ripresa iniziando con l'inflazione che a luglio come a giugno e a maggio ha comunque registrato una pur minima frenata. È un più 0,1% su base mensile che affiancato al più 1,1% su base annua offre un'immagine ancora debole della nostra domanda interna sostiene a tal proposito Confcommercio che alla fine di questo 2017 i consumi totali pro capite segneranno la cifra di 17.300 euro di questi poco o meno del 50% risulteranno spesi per comprare alimenti per vestirsi e per la casa. L'aumento congiunturale dei prezzi di cui stiamo parlando secondo l'Istit lo ha provocato una serie di fattori stagionali con in testa i trasporti questo significa che non si è lontani ma concretamente lontanissimi da quel 2% considerato livello di sicurezza dalla Banca Centrale Europea il traino dato all'inizio dell'anno dai prodotti energetici ha rallentato la sua corsa ma l'inflazione non ne tiene conto e si è sempre mantenuta lontana dall'obiettivo a luglio nel nostro paese è scesa di un decimo di punto percentuale segnando un più 0,8% numeri che chiamano in causa i conti pubblici ed eventuali margini di spesa supplementari per l'esecutivo una maggiore crescita dei prezzi garantirebbe un miglioramento dello scenario solo che se il PIL normale cresce come tutti dicono quello reale lo fa un po' meno e questo riduce il contributo che la maggiore crescita economica può dare alla manovra di correzione dei conti per mantenerci in linea con i parametri imposti dall'Europa serve la consapevolezza della situazione in generale come sembrano dire le parole del ministro per lo sviluppo economico Calenda in un'intervista a Repubblica riassumendo per quanto le questioni sul tappito appaiano ben avviate di certo non sono risolte insomma la crisi che ha avuto gli effetti noti e più è ancora di là dal poter essere considerata un brutto ricordo e discutono di com'è arrivare alle elezioni ai due diversi appuntamenti prossimi tra le amministrative in Sicilia a novembre e poi quelle del prossimo anno le nuove elezioni del Parlamento i partiti perché è evidente che gli schieramenti che si metteranno insieme in Sicilia poi peseranno ovviamente su il successivo appuntamento elettorale un'alleanza che si crea in Sicilia dovrà essere in qualche modo replicata in primavera all'elezione del 2018 oggi la notizia a questo proposito su questo discorso è un no che è quello di Giorgia Meloni che dice non ci alleiamo con chi ha tradito il riferimento ad Alfano contatti trattative strategie l'estate della politica si muove sotto traccia in attesa di un autunno che sarà rovente non a caso l'appuntamento del 5 novembre le elezioni regionali in Sicilia si è trasformato in una prova generale delle politiche di primavera e delle alleanze che verranno la nuova centralità di Angelino Alfano la sua alternativa popolare potrebbe giocare un ruolo determinante nel voto dell'isola determina una reazione a catena negli altri campi escluso il Movimento 5 Stelle che in Sicilia come nel resto del paese corre da solo un suo ritorno nel centro-destra escluso da Salvini e Meloni e anche da una fetta di forza Italia che non ha perdonato all'ex segretario del PDL la sua defezione al tempo della decadenza di Silvio Berlusconi il quale sarebbe disposto a recuperare il suo ex Delfino per riorganizzare un centro-destra moderato sul modello del Partito Popolare Europeo ma al momento non può permettersi la rottura con il leader leghista dall'altra parte nonostante la rottura plateale tra Renzi e Alfano nei giorni in cui l'intesa PD 5 Stelle Forza Italia e Lega sul sistema elettorale tedesco aveva messo appi nell'angolo si prova a ricucire il rapporto con la promessa di una coalizione che consenta agli uomini di Alfano di aggirare in Senato la soglia proibitiva dell'8% ipotesi osteggiata dalle forze a sinistra del PD a cominciare da Giuliano Pisapia il leader di campo progressista che vuole ricostruire un centro-sinistra largo ma non tale da abbracciare anche pezzi di centro-destra l'intesa tra PD e Alfano il mio progetto è un altro taglia corto l'ex sindaco di Milano un quadro già incerto al quale si aggiunge l'incognita della legge elettorale a settembre ricomincia l'iter in Parlamento ma dopo il fallimento dell'accordo a quattro Renzi non sembra intenzionato a riaprire la partita ci sono nuovi indagati nel caso Consip i nomi più importanti sono quello di Silvio Gizzi attuale amministratore delegato di Grandi Stazioni e poi anche Domenico Casalino che è l'amministratore delegato è stato l'amministratore delegato della centrale unica per gli acquisti dal maggio 2011 a metà 2015 i nomi dei nuovi indagati compaiono nella richiesta di proroga delle indagini che la procura di Roma ha depositato nei giorni scorsi le figure più importanti sotto la lente dei magistrati che indagano sugli appalti della Consip sono due il primo è Silvio Gizzi attuale amministratore delegato di Grandi Stazioni la società che si occupa del restyling e della successiva gestione delle 14 stazioni ferroviarie più importanti del paese il secondo è Domenico Casalino amministratore delegato della centrale unica per gli acquisti della pubblica amministrazione per quattro anni esatti dal maggio 2011 a metà 2015 il nome di Gizzi in realtà era emerso già qualche mese fa nel procedimento in cui è indagato per turba tivadassa l'imprenditore toscano Carlo Russo già coinvolto insieme all'amico Tiziano Renzi con l'accusa di traffico di influenze in uno dei filoni principali della maxinchiesta e a maggio gli investigatori avevano disposto una serie di perquisizioni nella sede di Grandi Stazioni in questo caso l'indagine prende spunto da un incontro filmato dai carabinieri del Noe tra lo stesso imprenditore Toscano e Silvio Gizzi alla stazione Termini di Roma è il 21 settembre dello scorso anno qualche ora dopo Russo entra negli uffici romani dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo arrestato nel marzo scorso con l'accusa di aver corrotto un dirigente Consip in quel momento scrivono gli investigatori del Noe e della Guardia di Finanza di Napoli nelle informative ai magistrati Grandi Stazioni SPA ha già in corso di assegnazione un appalto al Romeo con lui lo stesso Russo aveva vantato era luglio del 2016 l'incontro fu intercettato dagli investigatori buoni rapporti proprio con Gizzi suggerendo all'imprenditore di partecipare agli appalti per grandi stazioni le gare d'appalto citate nelle informative sarebbero due quella delle pulizie divisa in due lotti di 90 e 85 milioni e quella delle manutenzioni per altri 7 milioni di euro sono svolti nel pomeriggio i funerali dei due testimoni di quell'agguato in provincia di Foggia che ha portato alla morte di un boss della mafia locale tra l'altro secondo gli investigatori i due in realtà non sarebbero stati uccisi perché testimoni ma perché considerati per un errore di persona uno scambio di persona considerate affiliati al clan facenti parte del clan rivale oggi pomeriggio i funerali dei due invece per quanto riguarda il boss ucciso il boss massacrato il questore dice non si dovranno fare non si devono fare i funerali pubblici chiesa a stracolma folla e lacrime due mogli rimaste vedove che si chiedono perché a San Marco il Lamis provincia di Foggia pochi chilometri dal luogo della strage ai funerali di Luigi e Aurelio Luciani due fratelli agricoltori trucidati per caso o per errore nell'agguato di mafia di mercoledì si trovavano a passare sulla provinciale 272 al momento dell'agguato e sono finiti sotto il fuoco dei killer all'uscita delle bare la folla applaude qualcuno grida vittime innocenti il momento il momento dell'esequie marca la differenza per le altre due vittime Mario Luciano Romito capo del clan omonimo bersaglio vero dell'agguato e per suo cognato che guidava il maggiolone anche lui pregiudicato il questore ha vietato i funerali i loro corpi sono stati tumulati all'alba quasi di nascosto gli investigatori battono la pista della guerra tra clan una faida che da anni vede contrapposti i Romito e i Libergolis altro gruppo criminale del Gargano dai primi risultati delle autopsie Mario Luciano Romito sarebbe stato ucciso con due fucilate alla nuca il cognato avrebbe subito la stessa esecuzione mentre i due agricoltori sono stati inseguiti e ammazzati con feroce acrivellati di colpi di Kalashnikov potrebbero essere rimasti vittima di uno scambio di persona è una delle ultime ipotesi investigative potrebbero essere stati scambiati per persone vicine a Romito il fiorino bianco su cui viaggiavano è simile a un pick up utilizzato da guardia del corpo del boss lo scandalo delle uova contaminate una azienda francese le ha distribuite queste uova provenienti da allevamenti del Belgio e dell'Olanda in tanti paesi europei 15 tra questi si è saputo anche l'Italia il nostro ministero della salute dice che comunque nel nostro paese non sono state messe in commercio e quindi ci rassicura uova contaminate da un antipulci che era stato dato alle galline il fipronil non autorizzato provoca forti irritazioni ma chiaramente non deve essere ingerito la prima rassicurazione per l'Italia sulle uova contaminate col fipronil arriva dal ministero della salute non risultano distribuiti al consumo uova o derivati contaminati da fipronil sul territorio nazionale si legge nel comunicato diffuso a poche ore dall'allarme lanciato dalla commissione europea che aveva indicato anche il nostro paese tra quelli destinatari di prodotti dalle aziende coinvolte nel caso che sta scuotendo l'unione europea e che in Olanda ha portato all'arresto di due manager gli stati citati sono 15 ma il portavoce dell'UE per il commercio e l'agricoltura Daniel Rosario ha sottolineato come solo in 4 Olanda Belgio Germania e Francia sia stato confermato l'utilizzo illegale del prodotto da noi lo spiega anche il ministero risulterebbe l'acquisto di cibi da un'azienda francese che aveva utilizzato uova comprate a sua volta da allevamenti olandesi ma è spiegato la partita è già stata posta sotto sequestro e mai messa in commercio la questione resta delicata come naturale dal momento che riguarda la sicurezza alimentare e i rischi per la salute nel consumo di un prodotto così diffuso che si trova in tantissimi cibi così come in Francia anche in Gran Bretagna le maggiori catene di supermercati hanno ordinato il ritiro in massa di prodotti che potrebbero contenere uova contaminate arrivate dall'Olanda nel Regno Unito l'allarme sta generando psicosi nonostante siano state fatte tutte le rassicurazioni sul rischio basso per la salute in caso di assunzione di cibi contenenti fipronil un insetticida utilizzato contro pulci e zecche assolutamente vietato negli animali destinati alla catena alimentare rassicurazioni sono state date anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che considera il fipronil moderatamente tossico per fegato reni e tiroide soprattutto su bambini e anziani ma solo se assunto in dosi elevate per il momento la priorità è gestire la situazione ha spiegato il portavoce della Commissione Europea annunciando una riunione a Bruxelles il prossimo 26 settembre con tutti i rappresentanti dei paesi coinvolti il direttore per la sicurezza alimentare del Ministero della Salute dichiara il consiglio e quello del buonsenso cioè di preferire comunque le uova italiane guardando la provenienza nell'indicazione sul prodotto secondo Coldiretti in Italia sono stati importati 610.000 kg di uova e 648.000 kg di derivati dai paesi bassi nei primi 5 mesi del 2017 come avete sentito il Ministro dell'Agricoltura Martina interviene sull'argomento e dice a proposito delle uova contaminate anche questo episodio conferma per una volta di più la necessità dice Martina di una normativa europea obbligatoria più stringente sulle origini delle materie prime attraverso una etichettatura trasparente è giusto che i cittadini conoscano immediatamente la provenienza degli alimenti che consumano così il Ministro Martina ma adesso parliamo di una decisione pesante dell'antitrust che appioppa una multa salatissima all'Atac l'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma per dei disservizi causa dei disservizi il garante per la concorrenza e il mercato ha inflitto una maximulta di 3,6 milioni di euro una tegola inaspettata che si abbatte sull'azienda che è con numeri difficilissimi ad un passo dal fallimento e proprio oggi i radicali hanno consegnato al Comune le 33 mila firme del referendum per la privatizzazione dell'azienda replica il Campidoglio aprire ai privati non è la soluzione entro gennaio la sindaca Raggi dovrà comunque indire la data in un periodo compreso tra aprile e giugno 2018 è possibile che possa essere il referendum accorpato venga accorpata la consultazione con le elezioni regionali o politiche ed ora il maltempo perché se è vero che veniamo da tanti giorni di sole quasi soffocante su tutta la penisola è vero che negli ultimi giorni nelle ultime ore nel nord in particolare nel nordest si è abbattuta un'ondata molto pesante che ha provocato danni neve c'è stata in Piemonte sopra i 2000 metri in Val d'Aosta poi ci sono state le trombe d'aria in Veneto le violente grandinate in Lombardia insomma le regioni del nord fanno il conto dei danni subiti e quantificati in diversi milioni la Val d'Aosta è tra le prime tre regioni è tra le prime scusate regioni a chiedere lo stato d'emergenza anche il Friuli Venezia Giulia con 130 comuni coinvolti oggi ha decretato lo stato di calamità a breve potrebbe chiederlo anche il Trentino numerosi danni all'agricoltura l'ondata di maltempo non ha risparmiato il Veneto orientale in provincia di Venezia oltre un centinaio le persone curate per traumi fratture due feriti ancora gravi una tromba d'aria ha causato danni pesantissimi nei comuni di Jesolo Sandonà Porto Gruaro una cinquantina le abitazioni evacuate si stimano danni per 300 mila euro queste che state vedendo sono le immagini anche di un camping devastato nella località Cavallino queste invece le immagini della grandinata caduta questa mattina in Lombardia tronchi d'albero spezzati a Milano disagi alla viabilità ma soprattutto in Franciacorta dove la grandine ha danneggiato come dicevamo pesantemente i vigneti e allora dopo il telegiornale in onda ospiti di Telese Parenzo ci sono Barbara Lezzi Francesco Nicodemo Rossella Miccio e Francesca Mannocchi con un interessantissimo reportage sulla situazione delle carceri carceri dove vengono portati i migranti in Libia e allora in onda dopo il telegiornale noi per eventuali aggiornamenti ci rivediamo dopo la pubblicità eccoci di nuovo in studio non ci sono aggiornamenti particolari e quindi io posso darvi velocemente il buon proseguimento di serata grazie a tutti